musica 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 benvenuti benvenuti a bentornare in questo nuovo video oggi ragazzi siamo su sniping live finalmente siamo in domenica sul secondo episodio e siamo da soli perchè noi siamo da soli siamo ACAB comunque il cecchino che usiamo oggi è lsvg sicuramente avete letto dal titolo e speriamo di fare una buona partita perchè ho provato a fare una piccola partita di riscaldamento che è una partita cominciata e niente comunque ve lo lascio lo specialista nuovo e quindi vuol dire che nerda tanto o io che non nerdo su questo gioco no perchè è chiave davvero sto gioco ci sto giocando tipo mai sto giocando sempre a gta ultimamente e fifa se no non ci gioco quasi mai infatti penso che il video dell'altro ieri ed ho visto tipo un video o di fifa o di gta perchè è difficile che porto questo gioco sul canale cioè lo porto sul canale per carità però è difficile ci gioco spesso soprattutto in pubblica che non è che mi piace tanto e comunque è ciasciato tutto quanto si questo è Call of Duty quindi comunque qualche giorno fa devi trovare il video di Carof Duty Ghost che finalmente è tornato non so come sia andato perchè l'ho appena ingiziato e appunto lo devo ancora evitare e tutto quanto non so come sia andato se invece è collegato è serio? è serio? questo gioco? è serio? perfetto scusate perfetto ok mappa la partita è già cominciata che bella cosa e quello là appunto c'è lo specialista nuovo che è rinnegato e si chiama Pug Life bah vediamo un po' quante bestime potremmo lanciare in tutto ciò gravere un giocatore fermo la partita a 20 a 13 e spieghiamolo bene se non lagga forse potremmo fare una buona partita porca puttana guarda ma po' e con due etterà cazzo ma quanto so down ma hai capito ma hai capito ma hai capito ma non ho capito ma hai capito ma anche non hai capito ma ho capito per me oh mi si è bloccato il thrust comunque è un attimo concentrazione proprio tattica perfetto ma non è l'uva beef ok cambio scroll ok l'hcxd mi deve rompere il cazzo a me perfetto mamma mia mamma mia c'è un attimo in tilt con centri è un attimo 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 il mic è del dio il mic è del dio sempre così no ega ma io ho due colpi ma connessione di me ecco ecco sono morto oddio no ega questo qui non lo so meti a due colpi contati ma che connessione di me oh c'è la gente va col dite in gi c'è io non c'ho manco il tempo guarda questo mia puntata ma che vita di me c'è vai al talon po' ecco sono serio sono serio questo controlla al dite c'è il talon ma che gente di mad su sto gioco che gente di mad bella così ma partita finita 13-19 non sono un po' le marshall e non so se fare un'altra partita però penso di no quindi ragazzi spero il video vi sia piaciuto spero che lasciate un bel like un commento e iscrivetevi al canale è un po' una partita un po' degli osigoni perchè guardate questi qua c'è la spagna a cazzo stanno qua la mia puntata sulla porta a aspettarmi comunque adesso lasciate un bel like un commento e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ci ho fatto anche tutto bella